capitolo 7 angelica arabella non aveva ancora detto di sì essa aspettava che parlasse in lei qualche altra ragione dopo quella degli altri lorenzo non era un giovane antipatico il partito era bello magnifico il dir di no sarebbe stato per parte sua una crudele ostinazione ma quando l'anima è abituata a trovare nei suoi abbandoni spirituali i teneri calori della carità e della fede e la pia corrispondenza ad un amore senza confini è naturale che dubiti paurosa davanti un bel matrimonio di convenienza avrebbe essa potuto amare suo marito ora provava qualche cosa di duro ed irritato nel cuore che la metteva in sospetto anche nel matrimonio si possono commettere dei sacrilegi si può perdere l'anima quando manca la perfetta comunione degli spiriti e ancora non sentiva di voler bene abbastanza lo sconosciuto a cui doveva cedere tutta se stessa alle cascine essa non aveva compagna della sua età e della sua condizione alle quali potesse chiedere un consiglio e delle sue amiche di collegio poche erano in grado di fornirle degli schiarimenti solamente maria arundelli era andata a stabilirsi a milano moglie a un professore di ginnasio ma durante le vacanze non stava mai in città la mamma povera donna mezza disfatta per la morte del suo bertino non vedeva e non ripeteva che una sola idea anzi quasi non ripeteva più come se non ce ne fosse più bisogno vadava invece a persuadere rabella a smettere i vestiti del collegio che la facevano comparire goffa e senza corpo l'unica persona quella ragazza soleva chiedere qualche soccorso spirituale e qualche morale consolazione era la povera angelica una giovane contadina di 23 anni costretta a letto da una paralisi alle gambe e alla spina dorsale abitava un cascinale poco distante dalla colorina cara la sua povera gente quantunque così malata o forse perché così malata per quel sentimento di simpatia che stringe i forti e deboli bisognosi sentimento che la bontà la rassegnazione dell'inferma e la continuità delle cure rendevano ogni giorno sempre più profondo e raffinato i malgascia erano persuasi che le orazioni e patimenti rassegnati della loro angelica facevano bene alla casa come se il signore avesse incaricato lei di soffrire per tutti se la gragnuola non batteva il loro campo se il loro fieno era meno bruciato se il fuoco non aveva mai toccata la loro paglia se le bestie stavano bene il merito era di quella povera anima del purgatorio che bella come un angelo non si lamentava mai il male il letto il vivere sempre rinchiusa avevano non solo educata la coscienza ma in gentiliti anche lineamenti della ragazza che dal suo guanciale sorrideva dolcemente con un raggio di piera assegnazione a chi entrava a salutarla e a portarle qualche regaluccio le sue mani delicate e scarne lavoravano tutto il giorno nella biancheria della casa e in qualche cuffietta o babbuccia di bambini e spesso quando il sole batteva vivo sulle impannate di carta come se si muovesse in lei più forte il senso della vita lasciavasi condurre a intonare le litanie con una voce che la sentivano dal mezzo della campagna la domenica correvano le ragazze dei dintorni a trovarla sedute intorno al letto messo pulito in bianco come quello di una sposa ciascuna contava la sua o invocava onorazione speciale per i suoi malati tutte poi se ne andavano con l'animo edificato come quando si vede un castigo immeritato santificare un'anima anche arabella veniva spesso a tener compagnia all'inferma povera illetterata chiusa nel breve circolo delle sue sensazioni casalinghe angelica si incontrava con l'anima viva e penetrante di arabella in un terreno fuori del mondo dove le anime parlano tutte lo stesso linguaggio dove la scienza non è che un'illusione perduta per chi ha perduto il suo tempo ad acquistarla dove i dolori e i patimenti di qua giù hanno una ragione anzi la sola ragione d'essere arabella prima di dire l'ultima parola vuole consultare come un oracolo l'inferma che molte volte le aveva parlato con una chiaroveggenza meravigliosa dio si manifesta nelle anime che soffrono più che nella luce del sole per il viale dei salici giunse al cascinale un dopo pranzo mentre la gente era sparsa sui lavori della campagna entrò come soleva salì la scaluccia di legno spinse l'uscio della camera angelica rivedendola batte le due mani e gridò viva la sposa allargò le braccia nelle quali era bella si gettò con l'abbandono di una bambina smarrita che trova la mamma e cominciò a piangere perché perché chiese angelica carezzandola lasciami piangere a casa non posso mai ho bisogno di sollevarmi il cuore tu mi compatisci non è vero ecco mi sento già meglio soggiunse asciugandosi gli occhi e accostando la sedia a letto sento dire che questo matrimonio è una fortuna per tutti sì è una fortuna ma anche le fortune fan paura ed io ero così lontana da quest'idea tu lo sai io avevo promesso alla madonna che le avrei regalato questi capelli per la pace del mio povero papà non si rinuncia senza dolore alla vocazione di tutta la sua giovinezza e tu devi aiutarmi angelica a vincere questa ripugnanza perché sento che ho torto e che devo restituire ai miei parenti il bene che mi hanno fatto anche il signor curato mi ha rimproverata e me ne ha fatto uno scrupolo guai se dicessi di no sarebbe come se volessi rovinare la casa sulla testa della mia gente ma qui qui e con la mano segnava il cuore qui c'è qualcosa di morto di troppo freddo di troppo duro che non risponde alla chiamata che rabbrividisce all'idea delle responsabilità che mi aspettano a milano bisogna che tu preghi per me angelica e interponga presso il signore i meriti della tua pazienza perché io possa amare l'uomo che devo sposare e che domani sarà padrone di me oddio arabella respirando profondamente si coprì il volto con le mani presa da un brivido quasi di terrore che le traversò tutto il corpo e cadde in ginocchio nella stretta del letto appoggiando la testa sulle mani della contadina dalle impannate socchiose entrava insieme al riverbero verde e al tremolio delle foglie del vicino pioppo il soffio caldo dell'aria che scorreva sui prati nell'aia deserta chiocciavano le gallinette la gran pace dei caldi merigi di settembre cadeva sul casolare isolato nel verde e penetrava nella rustica stanza dell'inferma non addobbata che da piccoli quadri da corone e da immaginette attaccate all'uscio angelica che per un'intuizione delicata del suo organismo sentiva più in là di quel che dicessero le parole commossa da un senso di mistica pietà capì e compatì la ripugnanza della vergine apprezzò il suo sacrificio e parlando come soleva nei momenti di ispirazione col tono elevato e profetico di chi espone più una dottrina che dei pensieri propri presi a dire senza levar la mano dalla testa della sua compagna comprendo che tu abbia rimpiangere la tua vocazione povero giglio del giardino della madonna che cosa di più bello della santa castità essa ci accosta agli angeli che cosa di più caro della nostra verginità che ci fa tutte figlie di maria essere così vicini al sacro tabernacolo e sentirsi strappare via è un gran dolore e tu avevi consacrata un'anima bisognosa questa tua vita di pensieri pure immacolati ma dio non vuole cioè dio vuole da te qualche cosa di più grande di più bello non tocca a noi scegliere la nostra strada nel mondo o se così fosse chi vorrebbe essere ammalato chi vorrebbe veder morire i suoi figlioli chi stentare tutta la vita per morire povero e solo in ospedale se la strada del tuo dovere è diversa da quella che tu avevi scelta cara figlia della madonna non devi dire che dio si inganna o che vuol troppo da te non è mai troppo il bene che si fa difficilmente il nostro dovere va d'accordo col piacere nostro la croce da per tutto e per tutti e da per tutto tu sarai obbligata ad avere della pazienza tutti ne dobbiamo avere tu che stai per entrare nel mondo io che da 15 anni non esco da questo letto tuo padre e tua madre che lavorano per loro figlioli colui che semina colui che raccoglie che al campo bello chi lo vede battuto dalla tempesta dalla pazienza viene il coraggio e dal coraggio viene l'amore che fa piacere i nostri dolori gesù sulla croce non sentiva i chiodi perché il suo dolore era immerso nell'amore e tu non sentirai le spine del tuo sacrificio perché nell'amore per tuo marito per tuo padre per tua madre per i tuoi figlioli troverai il pagamento di ciò che perdi e l'anima tormentata a cui volevi consacrare la tua vita ne guadagnerà perché ciò che solleva le anime e il sacrificio apri il cuore cara figlia della madonna continuò l'inferma alzando le due mani come se celebrasse un rito e pensa che ciò che tu soffri in questo momento è ben poco in paragone della disperazione e dell'abbattimento dei tuoi parenti se tu rifiutassi l'offerta della provvidenza un freddo fremito di venerazione scosse arabella nell'intendere parole che parevano venire da un mondo remoto l'occhio di angelica era splendente e sereno la sua voce calda misteriosamente eccitata ed eloquente come se veramente parlasse in lei uno spirito superiore forse era vero quello che dicevano i suoi che in certi momenti essa aveva l'ispirazione divina arabella alzò la testa e lasciò che angelica accomodasse un poco i suoi capelli scomposti dall'agitazione e per la prima volta vide la possibilità di considerare se stessa e le cose della sua vita sotto un lato meno ristretto e meno personale mentre prima essa sforzavasi a collocare se stessa in un piccolo dovere scelto da lei e accomodato i suoi istinti ora sentì quel che vi può essere di nobile di santo nella rinuncia della volontà la monachella lasciava si trascinare dall'ordine delle cose a compiere il dovere scelto da dio stringendo le mani di angelica contemplando la miseria e la nudità di quella povera stanza dove l'infelice compieva pregando sorridendo e cantando il suo lento sacrificio l'anima viva impressionabile della giovinetta provò un principio di quell'entusiasmo che faceva così felici gli altri all'idea del suo matrimonio rimase in compagnia dell'ammalata in intimi e caldi discorsi finché il sole non cominciò a nascondersi dietro ai pioppi e se ne venne via col cuore cambiato scese la scaluccia e attraversata l'aia infilò il viale sentendosi un gran calore sul viso come se avesse attraversato una fiamma sul crocicchio delle due stradette si incontrò in papà paolino e gli si mise a fianco il buon uomo dal dì che aveva posta sul tappeto la questione del matrimonio non più osava guardare in viso la figliola adottiva per paura che il suo sguardo avesse a pesar troppo nell'anima della fanciulla da dieci o dodici giorni egli viveva col cuore sospeso in croce il suo destino dipendeva da una parola di lei camminarono in tratto in silenzio lungo il canale rasentando la chiesuola di mattoni che si crogiolava nel raggio rubicondo del tramonto quando era bella un tratto si arrestò papà disse con un leggero tremito di voce potrò rivedere ancora una volta le mie buone suore di cremenno quando egli disse con uno sforzo di voce prima di andarla giù a milano soggiunse sorridendo indicando la punta del duomo che usciva tra le piante lontane papà paolino non potendo resistere alla commozione cercò la mano della figliola se la portò alla bocca la baciò bagnandola delle sue grosse lacrime crollando il capo come se cercasse inutilmente di contraddire e continuarono in silenzio la strada fino a casa grazie a tutti